E agli arresti domiciliari da oggi Giorgio Barberi, il giovane di 33 anni, esponente di un centro sociale di Roma, arrestato mercoledì durante gli scontri con le forze dell'ordine intorno al cantiere della Torino-Lione, alla Maddalena di Chiomonte. Lo ha deciso questa mattina il GIP di Torino Federica Bompieri dopo l'udienza per la convalida dell'arresto che si è svolta ieri. Le ipotesi di reato contestati dal PM Manuela Pedrotta sono resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni in concorso con altri e detenzione di materiale esplosivo. Il militante infatti è stato trovato in possesso di una bomba carta.